Prosegue le tour She Means Business per formare in Italia 3.500 donne all'uso efficace dei social media per potenziare il proprio business. Il programma è promosso a livello globale da Facebook ed è realizzato in Italia grazie alla collaborazione della fondazione Mondo Digitale. Il progetto intende sostenere le donne che già svolgono attività d'impresa ed incoraggiare tutti coloro che desiderano avviare una nuova attività imprenditoriale. Mercoledì prossimo 4 luglio approda ad Agrigento She Means Business alla Camera di Commercio in Via Atenea dalle ore 15 alle ore 18 con la coach Giussi Messina. Sarà un pomeriggio gratuito di formazione e networking. Per partecipare è necessario registrarsi sul sito della fondazione Mondo Digitale al link pubblicato sul sito internet di teleacras.com. Ascoltiamo in proposito la stessa Giussi Messina al microfono di Giuliana Miccichè. Cos'è e come nasce il progetto She Means Business? Allora She Means Business è un progetto di Facebook attuato in Italia con la collaborazione della fondazione Mondo Digitale e serve proprio per aiutare le donne imprenditrici o aspiranti tali, quindi tutte le donne che hanno un'idea imprenditoriale e che vogliono svilupparla per tutto ciò che riguarda il marketing online attraverso lo sviluppo dei social network quali Facebook ed Instagram. She Means Business farà tappa ad Agrigento presso la Camera di Commercio il 4 luglio alle ore 3. La giornata di formazione verterà su due argomenti, ovvero lo sviluppo di Facebook e quindi tutte le novità che ne comporta, come ad esempio il nuovo algoritmo. Una parte verrà dedicata invece a Instagram, quindi visto che tutti vogliono sapere come poter diventare influencer parlerò delle ultime novità quali l'IGTV ma anche tutto ciò che riguarda le ultime news in campo dell'e-commerce perché da ultimamente è possibile anche fare acquisti tramite Instagram. E poi ci sarà un momento molto bello che come abbiamo fatto nella tappa precedente di She Means Business a Palermo dove ci sono state tre casi studio di tre donne veramente fortissime con delle idee imprenditoriali molto belle. Agrigento non sarà da meno ma ci sarà Florinda Saieva, la fondatrice di Farm Cultural Park insieme ad Andrea Bartoli ma la cosa bella è che insieme a Florinda, colei che racconterà le strategie social di Facebook sarà Carla che è la loro figlia di 12 anni. Quindi è un'opportunità per tutte le donne agrigentine, per tutte le imprenditrici ospiranti tali che non possono perdere.